Sono positivi i dati sulla qualità dell'aria che emergono dalla relazione diffusa dall'ARTA, l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente in occasione della presentazione del tour nazionale Clean Cities, organizzato da Legambiente che fa tappa nei principali capoluoghi italiani per il sostegno alle politiche di mobilità attiva, condivisa, elettrica e giusta e per un futuro urbano più vivibile e sostenibile, come recita la campagna. Un dato su tutti, in nessuna delle 16 stazioni di misurazione gestite da ARTA-Bruzzo è stato superato il valore limite giornaliero di PM10, cioè 50 microgrammi per metro cubo, e questo per oltre 35 giorni. Stesso discorso per il PM2.5, inferiore al valore obiettivo di 25 microgrammi per metro cubo. Il quadro è in netto miglioramento, abbiamo ancora dei picchi di ozono nel periodo estivo, ma in realtà si delinea, e questo è stato anche affermato dal sistema nazionale delle agenzie di protezione ambientale, si delinea un dato migliorativo, dato migliorativo che è conseguenza di un parco macchine sempre più evoluto nel senso di modernizzazione, e anche un miglioramento dei sistemi di riscaldamento domestico. L'insieme di questi elementi permette di abbassare il particolato e altri elementi nocivi in atmosfera. Tanto è stato fatto, ma ancora tanta strada resta da fare, e Lega Ambiente ribadisce gli step previsti per arrivare agli obiettivi europei del 2030. Anche su Pescare si stanno sviluppando nuove realtà, dal Pumse che ha fatto un salto in avanti, al tema del biciplan, le piste ciclabili, la messa in rete della mobilità, di quei sistemi che ci permettono di migliorare appunto il tema delle emissioni, ma al tempo stesso parliamo della qualità della nostra stessa vita. Questi insieme di progettazioni, accompagnate anche dalle risorse del PNRR nella giusta direzione, ci permetteranno di costruire città più vivibili a partire da Pescara. Entro i limiti anche le concentrazioni medie di biossido e di azoto, inquinante legato al traffico veicolare, i cui valori sono risultati ovviamente più elevati nei centri abitati delle principali città, ed in particolare a Teramo. E a Pescara l'amministrazione Masci ribadisce gli obiettivi di mobilità sostenibile, ma va anche oltre. Stiamo lavorando anche da un punto di vista proprio della pulizia, perché anche la pulizia, i lavaggi soprattutto, e soprattutto in particolare nel periodo estivo, quando c'è più caldo, aiutano a far sì che le polveri sottili non si alzino nell'aria.